Ciao bambini, mi riconoscete? Chi sono? Ho una corona in testa e un bel mantello. Sono un re! Bravi, son sicuro che avete indovinato! Vi ricordate il nostro gioco Salta Salta Coniglietto? Guardate un po', qui ho il coniglietto. E poi ho anche il tesoro prezioso che mettiamo nelle mani del re che nasconde bene bene, eh? Vi ricordate? Vediamo un po' la canzoncina. Salta, salta Coniglietto A saltare sei perfetto Se il tesoro troverai Presto re diventerai Eccolo, vediamo se indovina E' qua! Sì, ha indovinato! Eccolo il tesoro! Vi ricordate? Provate anche voi a farlo con i vostri babbi, le vostre mamme e i vostri fratelli e sorelle? Mandate foto, eh! Ciao!